Sai che ha fatto? Papà è entrato nel locale camminando così. Poi mi ha trascinata via, non l'ho neanche salutato ben. Papà, e mamma? Mamma è impazzita, ci credi che fa la smorfiosa col mio Jason? Lo sapevi che era molto popolare al liceo? Usciva con un musicista. No, davvero? Magari è lui il mio vero padre. Brava, hai capito tutto. È un po' più grande di me, ma capirai che tragedia. In fondo potrebbe essere la mia anima gemella. Il mio unico uomo. Unico uomo? Certo. Non hai mai avuto un unico uomo l'estate scorsa e riscesa a tre. Gary! Ben è il mio primo fidanzato vero, credimi. Lui è così internazionale e sofisticato. È stato alle Hawaii. Hawaii! E può votare. Non ha votato, ma potrebbe. E poi può comprarsi una birra in Canada. Hai ragione. Dovete sposarvi con luna di miele alle Hawaii. Hawaii! Sei così infantile a volte. Quando mi guarda negli occhi è come se fossi l'unica donna al mondo. Suonate nel nostro garage, sei l'unica donna in quel momento. Vado a fare un po' di rumore così papà mi paga le lezioni. Ok, se vedi mamma... Lo so, stai studiando. Con te parlo dopo. Vita a fare un po' di rumore. Grazie.